È un piacere, è stato un incontro importante dove ho potuto verificare ancora una volta l'impegno di questa organizzazione periferica e mediterranea e della regione toscana in particolare per mantenere una politica di coesione forse ambiziosa. Non è la prima volta, noi incontriamo, noi lavoriamo insieme e io sono felice ogni volta quando incontro il Presidente. Grazie al Presidente Rossi per il suo lavoro e il supporto e buon lavoro. Grazie. Io spero di visitare ancora Firenze. Grazie molto. Grazie alla Commissaria Crezzo che è molto impegnata per difendere i fondi strutturali e per dare una prospettiva alle politiche di coesione in tutta Europa. L'incontro è stato importante, ci rivedremo presto, credo a settembre ci sarà una delegazione dei Presidenti europei che si incontrerà con la Commissione. Dobbiamo lavorare perché questo pilastro importante di un'Europa sociale, di un'Europa dello sviluppo non venga meno in tempi nei quali ce n'è ancora più bisogno per la crisi, per la disoccupazione. La Commissaria Crezzo è impegnatissima, è stata già in Toscana, a Firenze e ovviamente mi auguro che presto ci si possa trovare di nuovo a Firenze e in Toscana e possa verificare come è già fatto lo stato di avanzamento della spesa e dell'utilizzo dei fondi europei nella nostra regione. Noi siamo aperti per tutti per cambiare, noi siamo vicini del popolo italiano dopo questi momenti difficili, dopo il terremoto e per noi stare qua per aiutare. Grazie molto. Grazie.